Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Gino Paoli è un nome che evoca immediatamente un'epoca della musica italiana. La sua carriera è una delle più brillanti e durature del panorama musicale, capace di attraversare decenni senza perdere il proprio valore. A quasi 90 anni, Paoli rappresenta ancora un punto di riferimento per molti, giovani e meno giovani, grazie a brani che hanno segnato intere generazioni. La sua musica ha unito tutti, grazie a melodie semplici ma profonde, e a testi che raccontano storie di vita e sentimenti universali. Nonostante l'età avanzata, la passione per la musica non lo ha mai abbandonato. Sebbene da qualche anno abbia smesso di esibirsi in pubblico, la sua curiosità e il suo amore per il mondo musicale sono ancora vidi. Paoli stesso, in una recente intervista, ha sottolineato quanto la vecchiaia gli abbia dato una nuova consapevolezza, permettendogli di apprezzare ancor di più ogni dettaglio della vita. Una figura umile e generosa, ha saputo mantenere la sua autenticità anche dopo decenni di successi. Insieme alla sua carriera, anche la sua vita privata ha avuto un ruolo importante. Il legame con la moglie Paola, con cui condivide una lunga storia d'amore, è un aspetto centrale del suo percorso personale e artistico. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!